Ancora una volta ciao ragazzi e benvenuti di nuovo su Garry's Mod, ultimamente ci ha preso parecchio, sono in compagnia di Anna, Miniforza e Mario Gioca con le palle, Mario smettila di giocare con le palle Oggi dovevamo fare un video su una modalità bellissima con dei pirati e delle navi pirata, però purtroppo ci hanno cacciato, anzi mi hanno cacciato perché ammazzavo innocentemente i compagni di squadra in questa maniera Eeeh E quindi, quindi abbiamo ripiegato sulla costruzione di slitte, che è molto bella, e iniziamo, eh? Allora, dobbiamo costruire, secondo me è più bello se creiamo un'unica slitta, però che supera un certo record di velocità o di distanza percorsa o di tempo, insomma Eeeh, quindi una sola slitta, no? Per tutti, quindi siamo in quattro, dobbiamo creare una slitta che contenga quattro persone Qui deve essere bella grande Materasso Vediamo un po' da che cosa, ecco, materassi, sì, sì, materassi Basta con questi cazzo di palle O divano Noi materassi sono buoni, i materassi sono buoni perché Eeeh, ondeggiano Com'è che si fa a ruotarli? R E E Oh, allora, ok, aspetta Miniforza tu Funziona sta cosa Allora, Mario, spawna materassi Allinea lì Io li allineo Miniforza li Mario, perché hai preso un materasso sudicio? Stava all'altra terra A questo Qual è il davanti? Il davanti, secondo me, è questa parte qua, però Quella è la coda Infatti, nella coda ci metteremo Dei thrusters Magari No, aspetta, serve qualcosa per tenerli Qualcosa di più Cosa si può usare? E non fa Ci vogliono dei Dei cosi Questo, questo, questo Sì, ci sta Saldatelo La stritta più bella del mondo Aspetta, si sta buggando Vabbè, saldatelo così, dai Mazza che schifezza Ok, a questo Saldatelo bene, eh Deve tenere bene tutti i thrusters Ho un brutto presentimento E dire come si prende la saldatrice Eh, devi andare qui Poi, sulla destra Welder Ma come si fa A Mio dio Mini forza Come si fa Ad accendere i thrusters? E di vedere che Allora Ma ti dico Ma che c'ho Sorry Allora Dice anche con che tasto Ah Allora Numero 8 Ok Però se non rimposti Devi metterne altri No, no Va bene quello Va bene Ora Dobbiamo fare dei Dei bordi Per evitare di ribaltarci Perché ribaltarsi È brutto Come si fa? Ecco, tipo Sto cercando No, questa Questa va bene Questa Se noi la mettiamo così Non ci ribaltiamo Saldate Arriva Saldalo così Non è più bello questo Questa merda Leva Leva sta cosa Ho tirato su Mario Oh mio dio Questo Guarda questo Guarda questo Ah, sì Questo si può usare Sul davanti Ne serve un altro No Così Bello centrale Vai Saldate Saldate Dobbiamo mettere altri Di questi Duplicator Serve Questi Fermi Miniforza Come si fa A usare il duplicator Miniforza Oh cazzo Ehm Cos'è? È più figo È bellissima Possiamo Però serve Comunque la parte Bisogna mettere Un altro di questi Cosi stradali Dall'altra parte Uguale a così Perché altrimenti Ci ribaltiamo Oh, non tirare Pronto Vai Vado di qua Io ne faccio spawnare altri Sì, ma di qua Anna Magari Eh, ma scusa Non dobbiamo metterli Ah Aspetta Non riemini Forza Mi devi venire in soccorso Ok Eccomi Eccomi Così Questo salda Anna Lascia Lascia O chiunque sia O io Ok Saldate pure quell'altro Oh, Cristo Mario Mario Che cazzo è successo? Hai la fitta in faccia Eh Aiutatemi Eh, non so come aiutatemi Ok, ok, ok Ok Posala piano Allora, dobbiamo rigirare bene Piano Piano, Mario Non è piano Mollala, mollala L'ho mollata Ok Fermi Fermi Oh mio Dio Fermi Credo che dovevamo fissare meglio la parte sopra e quella sotto Oh mio Dio Oddio mio Perché non si calma? Si sta calmando Ok Ah Si è tutta sfasciata Oh mio Dio Aspetta, è intera, è intera Non è vero Aiuto Ci mancano i frattordi Secondo me c'è una parte che non si è sbloccata Vedi? Torna subito giù Prova a premere la terra di nuovo E l'ho premuto Potete togliere Alcun Vedi? Togliete alcuni Togliete i thrusters No, 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 no Chi ha tolto il materasso? Non io Non i thrusters Dai Mini forza Leva Leva sti cazzo di thrusters Mini forza Scendi dalla slitta Credo che li può togliere Solo chi li ha messi Ehi, aspetta Ehi, si è messa giù Ecco Dobbiamo domare la bestia Si è incastrata Non si può Ok Aspetta, ma forse ora Fermo, fermo, basta Sembra a posto Si Prova la lascia Eh, si No, no, non è come aprirla Eh, no, però Prova ad adagiarla piano piano E si ribalta Eh, si ribalta perché c'è troppo peso Capito Dobbiamo uno Togliete i thrusters Togliete i thrusters O di sotto Tutti, tutti Dai, tutti Poi Occhio dove miri Ok Toggo pure il barilozzo No E forse è il barilozzo che fa peso Se lo togli Ah, no, no, no Erano i thrusters Però, allora Facciamo così Togli il barilozzo Questo affare di sopra Il cassone di sopra Ok E mettiamo degli altri thrusters Dove cazzo erano? A parte Zitta Qualcuno deve ricostruire Faccio io, va Il lato che non c'è più L'antiribaltaggio Mini forza Salda Arrivo con il soldatore Ok Ho uno dall'altra parte Così Vai Aspetta Dimmi con Vai Ok Ecco Perfetto Mo' ho Oh Cristo Eh Ma Mario Rimuovi anche quest'altro cassone È troppo storto Dobbiamo mettere un'altra roba al posto Tipo Sempre lo stesso cassone Però più Più centrale No possiamo mettere quelli che sono anche davanti No, no, no Mini forza Salda Ok Aspetta Così Salda Ecco Piano però Eh Allora Mo' i thrusters Da dove cazzo si Dove erano Vehicles Mettiamo uno sul parabordo A sinistra Aspetta Prima che li metti Non trovo le impostazioni Dei thrusters Sì lo so L'ho già vista Ma non li trovo più Tools Ah eccoli Thusters Ok Ne prendo un altro Però sto giro Questo Ma sono piccoli questi È buono No non cambia la potenza Come non cambia La potenza cambia Dalla freccia che sta in basso Ai modelli che vedi Dai In basso effetto di suono C'è forza Ah Vabbè se sono piccoli però No non cambia niente Cambia solo il modello E allora la potenza è 1500 500 l'uno Li abbasso Credo che vanno bene 1500 Metto 1000 Dai se no Facciamo troppo veloce Ok Questi li devi togliere Perché questi sono sempre Da 1500 E allora resteranno 1500 Dai Siete pronti Aspetta però Aspetta Aspetta Ci manca una cosa Importantissima Un alettone Aerodinamico Aspetta Aspetta Mini forza Tu lo saldi Ok ok Aspetta Non è il saldatore questo Salda Ok Fermi però Aspetta Salda Ok Con calma però Senza fare danni Ci siamo Aspetta Ci manca la parte Dell'aerodinamicità Eh Allora si Eh si eh La scrivania Perfetta Dimmi quando è allineata Un po' più a sinistra Ok Aspetta Storta Vai Salda Ma secondo voi va Anna la piante Di giocare Con le palle Porca puttana Andiamo Dobbiamo spingerla Fermi Quanto Quanto manca La partenza Perché se partiamo Subito Non riusciamo a salire Tutti Ed è brutto Che Oh cristo Mario Cosa diavolo Perché succede Tutto ciò Ogni volta Che sono morta Mario Salvatelo Qualcuno Che cavolo è successo Mario 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 Ah ma tu sei sceso Ma perché lagate Cazzo Facciamo l'esecuzione Di Mario E non si può più Aspetta Qual è il tasto Per fare undo Tutto z Eh ma non fa Z tante volte Oh sta partendo Presto Tutti sulla slitta Ma si è rotto No non si può andare Aspetta Tiriamola Tira Tira No Aspetta Fermo Fermo La recupereremo Allora Con molta calma La muovo eh Spostatevi Spostatevi Mi sa che mi rivolta Devi scendere Anche qui Sei grasso Si è staccato Il coso dei propulsori Ma fai schifo Ok saliamo Non importa Ognuno su una seggiola Dov'è la mia No sono morto Perché non vi state muovendo Non lo so Non lo so Oh non ho clippato Io ci sarei Ma non parte Aspetta si scende da una spinta Ok Prova a spingerci con la pistola Con la gravity Ok Bravo Bravo Ok ok Com'era il tasto per vedere in terza persona Control Stiamo a ruota Ciao miniforza Miniforza sali Siamo dei bambini sfigati Lo sai la realtà Che mi ha fermata di nuovo Sono io il tuo propulsore Eh lo so Me ne sto accorgendo Miniforza Che merda Che bello Dopo che inizia la gara Iniziamo a scivolare Ma la gara è già iniziata Eh ma è pure Oddio Non abbiamo molta aerodinamicità Oddio ci siamo ribaltati Miniforza dove cazzo sei Qui Sali Miniforza sali Sali stiamo prendendo velocità Ecco E siamo fermi Aspetta 6 5 Sali miniforza sali 2 1 Ok è stato un tentativo Parecchio parecchio triste Oddio aiuto Beh per forza dobbiamo andare Dai Cioè il punto è che Raschiamo per terra Ciao 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 Ciao